Due temi di stretta attualità, vitali per una serena convivenza delle comunità, sono stati affrontati stamane ad Acata, al Castello dei Viscari, dal sindaco Franco Raffo nel corso di un'apposita conferenza stampa. Il primo cittadino acatese ha voluto intanto sgomberare il campo dal polverone che si è venuto a creare, che rendo la situazione sulla raccolta rifiuti in città. Poi ha anche lanciato alcune proposte circa l'attuale, pesante e grave situazione del comparto agricolo. La crisi è profonda e ne parliamo da tanto tempo, ma il problema qui c'è la sottovalutazione del problema. Io sono stato a Marina di Ginosa, mi sono confrontato con le associazioni, c'erano presenti anche le nostre che stanno facendo un presidio a Vittoria e i problemi della Sicilia, forse più gravi, sono uguali a quelli di tutto il mezzogiorno. Vedete, ci sono degli atteggiamenti irresponsabili, io direi, non solo a livello locale, a livello nazionale e ovviamente a livello europeo. Pensate che siamo rimasti inorriditi all'orquando abbiamo letto il decreto mezzogiorno e ci accorgiamo che non c'è in questo decreto un solo articolo o un comma che parli della crisi dell'agricoltura o delle problematiche legate all'agricoltura. Siamo in ritardo ovviamente con i pagamenti alla ditta e questo comporta dei problemi per la ditta, per carità. Ma i dipendenti non sono dipendenti dal comune, sono dipendenti della ditta. La ditta mai nel momento in cui abbiamo rinnovato i contratti ha fatto presente che c'erano questi problemi. Poteva dire, se come tu non paghi me ne vado. Ma questo è un altro aspetto che sto verificando anche con i miei legali perché io devo uscire da questa situazione. Sì, ma quanto ammonta il... Un milione e mezzo circa di arretrati. Ma la ditta ha ragione, ci mancherebbe. Ma questo modo di comportarsi secondo me non è corretto. Fermo restando che gli operatori ecologici dipendenti della ditta Busso hanno ragione. Al comune di a casa non dò più un euro. No, ci sono 30 e 30 euro.